Lo scenario che si è aperto in Terra Santa e che ci ha sorpreso è uno scenario davvero sconvolgente per l'atrocità di quello che è stato compiuto in questo attacco, dei tanti morti che ci sono e quindi è un richiamo forte davvero a costruire una casa di pace e di giustizia. Anche la diocesi di Arezzo Cortone Sansepolcro ha aderito alla giornata di digiuno e preghiera per la pace indetta dai vescovi cattolici della Terra Santa e della Chiesa Italiana. Il messaggio è quello che anche il Cardinale Zuppi ha sottolineato in questi giorni, anche Papa Francesco, cioè che noi usiamo, viviamo la preghiera come risposta alla guerra e la preghiera è riconoscere la forza di Dio che è forza e dono di pace e invito a vivere tra tutti gli uomini la fraternità che nasce dalla giustizia, dal perdono, dalla ricerca di strade di dialogo e di incontro. Quindi ecco, la preghiera vuole essere una invocazione a Dio perché ci sostenga nella ricerca e nella costruzione della pace. La diocesi aretina ha così rinsaldato il suo speciale legame di comunione con la Chiesa di Gerusalemme, sancito nel gemellaggio siglato il 25 settembre 2010. Ad Arezzo un momento di raccoglimento con il rosario di fronte alla Madonna del Conforto. È nella cattedrale che è la Chiesa Madre della Diocesi, luogo e segno di unità di tutta la nostra Chiesa e nella Cappella della Madonna del Conforto anche perché reciteremo il rosario e quindi ci affidiamo anche alla sua intercessione per invocare il dono della pace. Grazie.